Turismo e viabilità nel centro storico, una transenna rudimentale con relativa segnaletica stradale e direzionale, peraltro obsoleta, ha ormai rimpiazzato i dissuasori mobili di via Principe Amedeo, porta e barco d'accesso principale al cuore del centro storico di Caltagirone. Da circa tre mesi fanno bella mostra di sé, anzi brutta e indecorosa, questi steccati, abitualmente utilizzati nei casi di emergenza o maltempo per canalizzare flussi di pubblico negli stadi o nei concerti. Eppure ciò che dovrebbe essere considerato provvisorietà rischia di divenire definitivo. Circostanza non di poco conto se si considera che in occasione delle festività natalizie migliaia di persone si sono riversate in visita nel centro storico. Il secondo aspetto da porre in evidenza, che è di natura tecnica, riguarda semmai i dissuasori mobili. Non si sa se la loro inattività si deve a un potenziale guasto meccanico o un'arcaica scelta di inutilizzo. Un guasto tecnico ci potrebbe stare, anche perché, come si ricorda un malcapitato automobilista, la scorsa estate andò incontro a un'insolita situazione di sollevamento, mentre attraversava il barco. Dopodiché l'amministrazione corse i ripari e decise di sostituire i precedenti segnalatori luminosi con un semaforo a tutti gli effetti. Fin qui nulla di strano, ma tornando alle antiestetiche transenne, è opportuno ricordare che una nota associazione culturale donò al comune appositi drappi per coprire questi parapetti.